Questa torre mi ha dato un po' di guai, ogni 6-7 mesi trovavo una crepa, allora chiamai una ditta che stavo facendo dei lavori qui all'ospedale e hanno messo due putrelle di ferro in senso contrario e quindi hanno sistemato il tutto. Poi dopo mi sono accorto che questa crepa che veniva era un albero di fichi che era cresciuto dentro il muro, mi è venuto in mente questo soggetto che tra l'altro mi ha fruttato anche un primo premio ad un concorso di poesia. Dentro le crepe di un palazzo antico che il tempo inesorabile ha spaccato, forse per sbaglio il vento ci ha piantato, un seme è diventato adesso un figo. De conseguenza pure il frutto è nato e l'arberello è diventato amico di un sacco di uccelletti, non vi dico, sono tanti a mangiacipo privato. Guardo sta scena dal terrazzo mio e penso a come grande è la natura, a come nasce un fiore oppure un fio, penso a sto mondo che mi fa paura. Se non c'è più a riparo qualche Dio, restiamo ancora nella spazio dura.